Miriana Trevisani in questi ultimi giorni è sempre più confusa per il flirt con Nicola Pisu. Col figlio di Patrizia Mirigliani c'è una grande complicità e lui è evidentemente molto preso da lei È scattato anche un bacio nella love boat della casa, lontano dagli occhi degli altri vipponi ma comunque davanti alle telecamere. Nelle ultime ora però l'ex valletta di Mike Buongiorno aveva fatto un mezzo passo indietro Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa, ha spiegato dicendo poi di volersi prendere un po' di tempo. Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire, che dubbi ho Nicola Pisu, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo della showgirl, ha dichiarato che accetterà qualsiasi tipo di decisione prenderà sulla loro storia Al contempo non ha nascosto di star male per questa situazione poco chiara, decidi tu. Ci sto male, ma che ci devo fare? Miriana Trevisan sgamata, le foto del bacio Vi sicuro nella nuova puntata del GFV Pse Alfonso Signorini indagherà su questo rapporto, ma probabilmente tirerà fuori anche delle nuove foto di Miriana Trevisan pubblicate poco fa in rete Un passo indietro, nella scorsa puntata lei aveva assicurato di essere singolo. A domame da diretta del conduttore, che l'aveva convocata in confessionale e aveva anche fatto il nome del presunto fidanzato, lei è caduta dalle nuvole Alfonso Signorini ha parlato di un certo Bruno che avrebbe anche rinunciato a qualcosa di molto importante per lei e per starle vicino Lei è apparsa molto sorpresa e ha anche negato ogni legame esterno ma ora Biagio Danelli pubblica su Instagram le foto della geffina con il presunto fidanzato. Foto in cui si vede anche un bacio tra i due Sgamata. Miriana perché non racconti la verità? Questo non è Nicola Piso, scrive Biagio Danelli sotto gli scatti in cui è ritratta tra le braccia di un uomo di cui è stato coperto il volto in ascensore In altri scatti i due si baciano. Che sia lui il misterioso brumo. È molto probabile che nella dodicesima diretta del GFV Pse il conduttore mostrerà queste foto alla diretta interessata e soprattutto a Nicola Piso